Il primo italiano a combattere un incontro principale della UFC, il primo a combattere per il titolo di campione del mondo UFC. Attualmente è il contender numero 3 nella graduatoria dei pesi medi, ma con l'obiettivo ben stampato in testa di diventare il primo campione italiano. Marvin Vettori nasce a Trento il 20 settembre del 1993 e cresce a mezzo Corona, un paesino di 5.000 abitanti. Cresce insieme alla mamma e al fratello Patrick. Il padre lo ha sempre portato in palestra fin da piccolo e iniziò a 5 anni con il Yosekambudo, un'arte marziale simile al karate, ma si innamorò delle MMA in seguito alla visione del Pride, federazione giapponese anche più grossa della UFC, e rimase particolarmente stregato da Fedor Emilianenko, che sarà da lì in poi il suo idolo in questo sport. Delle MMA gli piace tutto, le preferisce fin da subito alla box e alla Thai perché c'erano meno interferenze e non si poteva essere contato. All'età di 15 anni decise di iniziare a allenarsi nelle Mix Martial Arts, ma il contesto al tempo non era favorevole, in quanto non esistevano palestre, che insegnassero MMA vicino a Mezzocorona. La routine di allenamento era dunque estremamente complicata, doveva spostarsi e andare nelle città limitrofe, tra Trento e Rovereto, e si allenava in ben quattro palestre diverse. Nel frattempo aveva iniziato anche a fare i primi incontri amatoriali, subito dopo aver compiuto i 18 anni, ma i risultati non erano entusiasmanti. Tuttavia, insieme ad alcune sconfitte, si porta a casa anche un discreto bottino di esperienza, che gli apre gli occhi e gli fa capire che non sarebbe riuscito a fare il vero salto di qualità, continuando ad allenarsi in Italia. Spostarsi di città in città e frequentare ben quattro palestre diverse non erano la strada giusta. Durante le vacanze di Natale dell'ultimo anno di superiori, decide di andare a Londra per capire se avrebbe potuto trovare un terreno più favorevole al raggiungimento dei suoi obiettivi, che fin da subito erano quelli di calcare l'ottagono UFC e diventare il primo campione italiano nella storia della promotion statunitense. Rimane a Londra una settimana e si allena con atleti di livello e pro, che gli fanno capire fin da subito che la differenza era abissale. Nonostante l'impatto molto duro con la realtà inglese, Marvin capisce che se voleva davvero migliorare, quella era la possibilità migliore per farlo. Finita la scuola superiore, decide di trasferirsi in pianta stabile a Londra e trova alloggio nella casa di un fighter che aveva conosciuto qualche mese prima, nel suo viaggio natalizio. Per mantenersi lavora come buttafuori e i primi tempi sono stati davvero durissimi, perché il livello di Marvin era ancora basso, non lo conosceva quasi nessuno e passava le sue giornate ad allenarsi, alle volte anche due o tre volte al giorno, e a lavorare la notte. Farai il primo match da pro dopo otto mesi che era arrivato a Londra e inizia a combattere nella Ultimate Challenge MMA. Il debutto avviene ad agosto del 2013 contro Tom Richards. Sono Marvin Vettori, vengo da Italia e traino in London Shootfire. Ho lavorato molto nel mio ground game, che è il mio migliore, dove voglio essere, e anche traino più nel mio ground and pound. Marvin, non so niente di te, non mi preoccupi, direttamente. Train hard, train back the wood, per ogni altra fight, just looking forward to getting it on. Tom Richards, I can't wait to see in the cage and make you suffer at least half of what I suffered in this training camp. We've got some really good pro fighters coming out of London Shoot Fighters and these guys are used to cutting weight so I can imagine Marvin Vettori weighing a lot more than his opponent right now. Training out of fighting fit in Vanbury. Slightly older than his opponent and in a bit of trouble right now. And tapped. Vettori took the back off the mound position. 31 seconds in the very first round. the winner by tap out due to the rear naked choke, somebody out of the red corner, Marvin Vettori. And your runner up is Tom Richards. He brought a casa la sua prima vittoria da professionista. Nei successivi 12 mesi combatte cinque volte, portandosi a casa quattro vittorie e una sconfitta. La sconfitta arrivò proprio nell'incontro valevole per il titolo Welter della UC MMA e arrivò per decisioni unanime contro Bill Belmont. Fu una sconfitta molto difficile da digerire in quanto era l'incontro più importante della sua carriera professionistica fino a quel momento. E in più la sera dell'incontro erano presenti anche il padre e il fratello di Marvin. Scottato e deluso decide di tornare in Italia per fare il punto della situazione a mente lucida e capire cosa fare. Anche perché iniziava seriamente a prendere in considerazione il ritiro dalle MMA. Ma dopo pochi giorni capisce che non poteva assolutamente gettare al vento il lavoro fatto e doveva invece perseverare per raggiungere il suo obiettivo. Nello stesso periodo ci fu il lancio di Venator Italia con uno schema a torneo che in sei mesi avrebbe decretato il campione al quale sarebbe stata pagata una borsa di ben 10.000 euro. Marvin ingolosito dalla lauta borsa decide di prendere parte al torneo e si allena in Italia sotto il maestro Filippo Stabile che lo ha poi seguito fino al primo match in UFC. Vince il torneo di Venator battendo Anderson da Silva, Giorgio Pietrini e Daniele Scatizzi e si porta a casa i 10k. Gli viene proposto di difendere la cintura contro l'inglese Jack Mason, un fighter con tantissima esperienza che aveva combattuto in circuiti importanti come Cage Warrior e Bellator e che vantava più di 40 incontri da professionista. Sapendo che l'avversario sarebbe stato molto competitivo, Marvin decide di utilizzare i 10k vinti per pagarsi il primo camp negli Stati Uniti. Si allena bene e trova anche un nuovo manager che poteva aiutarlo nel proseguo della sua carriera dato che aveva già molti fighter che combattevano in UFC. Vincerà il match con Mason, lo vincerà bene e si riconfermerà come un atleta emergente. A questo punto Marvin incomincia a sperare nella chiamata della UFC, anche forte delle conoscenze del suo manager. Tuttavia questa telefonata tanto attesa non arriva e dunque continua a combattere per Venator, ma questa volta cambiando division e passando dei welter ai pesi medi. Il fighter che gli viene proposto è Igor Araujo, un ex fighter UFC che aveva due vittorie e due sconfitte nella promotion statunitense e rappresentava il perfetto banco di prova per il giovane Marvin, al tempo 23enne e con un record di 9 a 1 tra i professionisti. Marvin si porterà a casa una bella vittoria e in seguito arriva finalmente la tanto desiderata chiamata della UFC. Il percorso di Marvin per arrivare in UFC è stato pieno di ostacoli. Ma la perseveranza e il talento gli hanno permesso di spingersi sempre oltre e di raggiungere il suo obiettivo. Se vuoi scoprire la storia e la vita dei migliori fighters UFC ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i prossimi episodi e di recuperare tutti i video precedenti nella playlist del canale. Video come quelli sulla vita di Israel Adesagna, John Jones, Hamza Cimaev, Alex Pereira, Charles Dobronx Oliveira e tantissimi altri. Ve li elenco anche nella descrizione di questo video così potete facilmente vedere se vi siete persi alcuni degli episodi precedenti. Il debutto in UFC arriva nell'agosto del 2016 contro Alberto Uda. Vittoria per Ghigliottina Cioc al primo round. Combatte il secondo incontro nel dicembre dello stesso anno contro Antonio Carlos Jr. Il brasiliano era un fighter molto esperto e aveva al tempo già sei incontri in UFC. Si porterà a casa la vittoria per decisione tenendo a terra Marvin e controllando l'incontro di grande esperienza. In seguito a questa sconfitta Marvin decide come fatto in precedenza quando aveva 18 anni di cambiare completamente per cercare di affinare ancora di più le sue skills in un ambiente più competitivo e dunque si sposta in maniera definitiva negli Stati Uniti. Vince il match successivo contro Vitor Miranda per decisione unanime e poi Omari Akhmedov, un match molto sul filo del rasoio. Davvero contestato dall'italiano che pensava di aver fatto a sufficienza per portarselo a casa. Nell'aprile del 2018 Martin incontrerà un avversario storico, Israel ad Esagna. Questo sarà solo il primo di una serie di incontri tra i due. Il italiano è il Vitorio! Israel, il ultimo battaglio di Anastasia! No! 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 Nonostante l'incontro fosse molto equilibrato, i giudici decidono di dare la vittoria per split decision a Israel ad Esagna e Marvin sarà molto duro nel giudicare il verdetto, per lui ingiusto e sbagliato. Nonostante la sconfitta, Marvin era pronto a riconquistare il terreno perso. Tuttavia arrivò una chiamata che cambiò i piani. Mi chiamano, io avevo un match in programma, mi stavo preparando e mi chiamano e mi dicono il mio manager, l'agenzia di antidoping, ha trovato una sostanza che non era permessa in uno dei test che ti ha fatto, no? Io casco dalle nuvole e dico che sostanza è? Il mio amfori che si chiamava Ostarina, non saprei che cosa fosse. Vado a vedere, poi era praticamente un 0.1001, quindi era tipo uno alla meno dieci grammi. Però non conta niente se ce l'hai ce l'hai, perché quella sostanza lì non ci deve essere nel corpo, se c'è è stata immessa in qualche modo. Ho provato da dove e non la trovano. Il fatto sta che nel mentre non potevo competere, no? E quindi per quasi 15 mesi non ho potuto competere. Mi sono detto, o torno in Italia e faccio qualcosa, oppure comunque la rischio tutta fino alla fine, mi alleno come se dovesse avere un match, cioè uso questo tempo in cui non posso competere per migliorarmi, no? Torna dalla squalifica completamente rigenerato e si apre un nuovo capitolo della sua carriera. Arriveranno cinque vittorie consecutive nei successivi tre anni contro Ferreira, Sanchez, Robertson, Hermanson e Kevin Holland. In particolare fu proprio la vittoria nel dicembre del 2020 contro Hermanson, al tempo top 5 della division dei medi, a dare la svolta alla carriera di Marvin e a farlo entrare in maniera definitiva nella ristretta cerchia dei title contender. Dopo la vittoria con Holland arriva dunque la seconda possibilità contro Issa Adesagna e questa volta non è solo per l'onore, ma anche per la cintura di campione del mondo dei pesi medi UFC. Marvin era carico e già nelle interviste pre-fight sembrava sicuro di sé. The UFC announced that Isra Adesagna will be defending his middleweight belt against Marvin Vittori at UFC 263 in a rematch from their very first fight, which was in 2018. Vittori vs Adesagna booked coming up in June because Dana said, I'm going to offer this to Whitaker. If Whitaker does not take it, I will go to Vittori. Marvin, you know you have won five in a row now. You have long called for a rematch. Do you think this was enough to get you in that title picture? Yes. One of us on your next. Furono cinque round molto duri, ma gli UFC 263 verrà ricordata come la card che ha visto la riconferma di Issa sul trono dei pesi medi. Arriva infatti la vittoria per decisione unanime. Un colpo molto duro per Marvin che si vede sfilare la sua più grande possibilità da sotto il mondo e che non ritiene corretto il verdetto dei giudici. A questo punto serve un nome molto importante per poter portarsi a casa una vittoria di prestigio e riconfermarsi come un title contender. Viene scelto Paolo Costa. L'incontro sarà il main event di una UFC fight night e sarà su cinque round. tutto molto bello, peccato che Paolo Costa mancherà il peso e anzi farà di tutto per far saltare l'incontro. Marvin Vettori pur di combattere accetterà di assecondare le richieste del brasiliano e l'incontro si svilupperà praticamente nei medio massimi. Hercules Beats 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 Grazie a tutti. I due ci regalano un match molto emozionante, con colpi davvero duri. Marvin dimostra di saper tenere testa a uno striker d'elite e di avere un mento a prova di bomba. Ora serve solo un gradino intermedio, prima di poter avere una seconda possibilità per la cintura dei medi. La UFC decide di fare un'eliminatoria tra Marvin e Robert Whittaker. Il vincente affronterà Israel ad Esania. L'incontro sarà il co-main event di un Fight Night e sarà su 3 round invece che su 5. Robert Whittaker si porta a casa la vittoria per decisione unanime, dopo 3 round dominati. Per Marvin una sconfitta dura e netta che mostra i limiti del suo modo di combattere. Come è successo in passato, Vettori capisce che è giunto il momento di cambiare, per poter trovare nuovi stimoli e migliorare le sue skills. Quanto raggiunto sotto il coach Rafael Cordero è un'ottima torta, ma la ciliegina va trovata altrove. E dunque lascia la Kings MMA e approda alla Extreme Couture. Il suo incontro successivo sarà contro una vecchia conoscenza, Roman Dolizze. La card è quella di UFC 286. Il suo incontro successivo sarà contro una sconfitta della sconfitta della sconfitta della sconfitta. 29-28, 29-28 e 30-27 per la vittoria, per una decisione unanime, Morgan, il sogno italiano, Satori. Vettori si porta a casa la vittoria per decisione unanime e si riprende il terzo gradino della classifica mondiale. Con tutti i migliori top 10 già occupati, Vettori decide di accettare il temibile Jared Cannonier, in un UFC Fight Night il 17 giugno di questo 2023. Una vittoria gli darebbe la spinta per poter chiedere un nome grosso che possa dargli accesso a una title shot. The Killa Gorilla è un gigante e ha un KO Power impressionante. Non sarà un'impresa facile, ma Marvin Vettori ha dimostrato di riuscire sempre ad andare avanti nonostante le avversità e di migliorare di anno in anno, diventando un atleta sempre più completo. Un atleta che rappresenta la più grande possibilità italiana di avere un KO. Grazie. 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 Grazie.